un saluto agli amici della casa della chiave oggi chiavi fiat 600 che ha del cliente la nostra chiave chiude apre vediamo se accende il motore eccoci alla grande anche questa è andata fiat 600 milano casa della chiave number one e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti.